Che cazzo è stato? Barbara donated da... Bella sono Matteo, te l'avevo promesso e ecco fatto, allora ti ringrazio per tutte le live che fai Matteo! Ti ringrazio di cuore, non dovevi Ma l'ha fatto sul serio? Non ci sto credendo, grazie What the fuck? L'ha fatto davvero Sento là c'è un lama Non ci sto credendo I gots, i ver Did he actually die to these These people Like none Oh he left ... ... ... ... ... o mio Dio io ragazzi tu sai cosa fare ttv.metalscop tu sai cosa è tu sai cosa è scrivere a qualcuno grazie chatti chupo po****** chupo po****** chupo è un po****** chupo è un po****** przyszedł popykał mi tutaj swojego pytolka ty i g**o mu to dało to mówiąc chupo na cipany jakiś nie i ja ok ok bejamoŚĆ o to welcome � Ok Esa Pa casa Que te coja pa su club, mira vete con el Eh, que me coja a mio Que no lo quiero, hombre Si pongo delante el nombre Si pongo delante los nombres iniciales Yo tambien, asi que Clampe, Clampe No, pecho Clampe, chico, por Barcelona Vamos a cuscolar 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti